Più di 70 sax esposti nella Galleria Civica di Palazzo Moncada fino al 25 aprile in occasione della mostra Mille Modi di Dire Sax. Ogni pezzo del Deluxe Saxophone Museum, che fa tappe in città, racconta la sua storia e in alcuni casi ne ha fatto parte, dato che sono presenti strumenti della seconda metà dell'Ottocento e insieme ai più antichi ci sono anche sax moderni, come quello realizzato in policarbonato trasparente del 2021. È una delle più grandi collezioni che ci sono in Europa, non è la più grande, ma una delle più grandi e questa è un'occasione unica per Caltanissetta di avere un'esposizione con 71 sax dal 1855 ad oggi. Il saxophone è stato inventato nel 1840 da Adolf Sachs e io ne ho uno del 1855, fatto precisamente da lui in persona, quindi 15 anni dopo l'invenzione di questo straordinario strumento. Sono tutti pezzi rarissimi, pezzi unici, che hanno fatto la storia della musica, la storia del sax, la storia del jazz, passando per le bande, per i nightclub. Dentro ogni strumento di questo ci sono applausi, studi, prove, sofferenze, concerti, delusioni, viaggi interminabili, tournée. Non saprei, però alcuni di questi che appartenevano a direttori d'orchestra, a sassofonisti importantissimi durante la saxophone craze, che era praticamente il periodo del boom rappresentato per il sassofono che intorno agli anni 20 ha superato la crisi del 29 per arrivare sino agli anni 30, dove si è tramutato in jazz e in sassofono accademico. I visitatori possono ammirare la mostra e allo stesso tempo sentire sax suonare, grazie anche alle diverse esibizioni di artisti in programma, come quella del maestro di Vendra. L'evento è stato voluto dall'amministrazione comunale insieme alla mostra fotografica allestita nell'ex rifugio antiaereo proprio durante il periodo pasquale. Ci siamo impegnati moltissimo perché queste due mostre si potessero realizzare proprio durante la Settimana Santa. La mostra dei sassofoni, che ospiterà anche diversi momenti di musica, nasce proprio da questo legame profondo che esiste tra la nostra città e la musica in tutte le sue forme ed è una mostra di grandissimo livello, di alto prestigio per la nostra città. La mostra fotografica di Miciche e Ayala è un altro fiore all'occhiello proprio perché racconta la Settimana Santa negli scatti di due fotografi a distanza di tantissimi anni l'uno dall'altro.